Quando ci sono queste partite ci sono i meriti della Paffone che forse ha giocato una delle migliori partite negli ultimi anni, forse la migliore della gestione Ghizinardi e poi ci sono anche i meriti dell'altra squadra. Quanto questa sera sono di più i meriti di Omenia o i meriti di Firenze? Tanto Omenia, nonostante le assenze, è una squadra che ha, come ha dimostrato stasera, tantissimi giocatori di grande qualità, top player per la categoria e l'hanno fatto vedere in tutte le fasi del gioco, sia offensivo che difensivo. Grande percentuale di altri punti, sicuramente la mia squadra non è stata pronta sulle situazioni che avevamo preparato di difesa sull'uno contro uno, dove siamo stati costantemente battuti. Questo ha creato rotazioni, ha creato tiri aperti per i giocatori di Omenia che sono stati bravi a metterli. Quindi di sicuro dovremo andare a ripassare l'uno contro uno difensivo. Noi sappiamo che, sapevamo che era una partita molto difficile, dal livello competitivo molto alto perché appunto l'intensità, la capacità, la preparazione della partita della squadra di Omenia è sempre di alto livello. Lo sapevamo. Noi ancora non siamo a questo livello perché siamo una squadra che è ripartita, siamo una squadra che non è costruita per vincere, è costruita per fare un bel campionato positivo e per capire nel corso d'opera quello che ci manca per arrivare a livelli di squadre come Omenia. Dalla partita di oggi prenderemo qualche spunto, qualche valutazione sia per lavorare con questa squadra per migliorare certe cose e sia per capire negli ingrenaggi nostri cosa ci manca per competere ai massimi livelli. Tutti gli altri lavori vi considerano un po' come la antipaffoni, cioè è un ruolo che secondo te si addice alla tua squadra o dovete ancora crescere tanto per ambire questo ruolo? Ma sai sono sempre i giochi delle parti, io credo che la mia squadra è una squadra che ha tre giocatori molto solidi per la categoria e ha un gruppo di giovani Under 22, Under 23, Under 20 di qualità, di prospettiva ma che devono mangiare ancora tanta pappa per competere a questi livelli e stasera ne è stata la prova. Penso piuttosto che l'anti Omenia siano squadre come Milano, come Pavia, come la stessa Varese che hanno 6-7 giocatori pronti per la B, veterani pronti per certe battaglie e magari anche pronti a giocare con la durezza necessaria per questi livelli. Noi crediamo nei nostri ragazzi, il percorso è lungo, vogliamo appunto competere per arrivare a playoff quest'anno e capire quello che ci manca per fare l'ultimo salto di qualità della prossima stagione.